Guardi, Vox sta nei conservatori esattamente come Fratelli d'Italia da circa cinque anni e non prevedo che cambierà gruppo. Marine Le Pen è in ID, come si sa, da diverso tempo e non prevedo che cambi gruppo. Non vedo, diciamo, non c'è adesso in vista alcuna forma di, come posso dire, unificazione tra il partito dei conservatori e quello di ID. Ciò non toglie, come dicevo, che su alcuni temi si possa collaborare, come già abbiamo collaborato. Perché poi, guardi, rispetto alla lettura che io leggo tante volte in Italia, diciamo, sulla politica europea, le cose in Europa sono un po' più, come possiamo dire, fluide di come sembrano. No, nel senso che capita che partiti che appartengono a famiglie politiche completamente diverse si ritrovino a votare insieme sullo stesso dossier. No, è capitato che noi votassimo con l'Assemblée nationale piuttosto che col PPE o con i liberali addirittura. Delle volte capita.